generali assicurazioni analisi mensile ottobre 2020 allora un piccolo aggiornamento visto che questo è un titolo che avevamo analizzato a maggio mi sembra doveroso un piccolo aggiornamento anche se poi di fatto non è un non è successo granché sul titolo quindi rifacciamo un riepilogo giusto perché era uno dei titoli analizzati all'inizio molti non vanno indietro nel canale non lo vedono secondo me è un titolo importante avevamo analizzato appunto tutte queste fasce di prezzo perché da questo punto di vista era molto interessante vedete come avevamo nell'ultimo periodo dal 2010 ad oggi avevamo identificato due fasce di prezzo la prima diciamo in area 19 18 19 la seconda in area 9 70 insomma qui vedete come il prezzo poi si è mosso per dieci anni in questa in questa fascia di prezzo qua ok quindi tutte le volte che il prezzo raggiungeva la soglia di 18 19 veniva respinto viceversa veniva respinto verso l'alto sulla soglia dei 9 94 10 euro ok tra l'altro queste qua come avevamo visto sono tutte zone che erano già state testate un po in precedenza vedete questo swing qua è in prossimità della parte vedete anche qui come guardate qua guardate qua quindi vedete come queste aree fasce di prezzo siano ricorrenti e ritornino guardate ad esempio questa stessa questo stesso minimo di swing che corrisponde vedete a questo a questa fa questa area piccola di dove il prezzo era arrivato si era fermato e poi era riesploso per praticamente andare quasi verso i massimi cioè verso i massimi assoluti non quasi quindi queste fasce di prezzo che tornano guardate ad esempio questa qui è alta la nostra fascia di prezzo alta che torna in questa diciamo addirittura nel 94 ok quindi facendo una lente di ingrandimento invece sull'ultimo periodo possiamo dire che è sicuramente tutta un'area molto interessante adesso avendo generali anche insomma una certa reputazione nel campo insomma assicurativo ma anche immobiliare poi tra l'altro adesso sembra in via di acquisizione anche del e che entra a far parte anche di dell'assicurazione di assicurazioni cattolica ci sono tante novità quindi dovrebbe essere un prezzo un titolo che potrebbe potrebbe anche riprendersi e quale miglior cosa testare i minimi per cercare poi di andare a entrare in posizione sul riassorbimento appunto di uno di questi minimi no quindi quali possono essere questi minimi in ordine di importanza sicuramente diremmo 9 9 80 10 20 la candela il minimo della candela di marzo ad esempio il minimo della candela di marzo il minimo della candela del 2016 vedete sono tutti ottimi proprio in riassorbimento su questo titolo anche perché come vedete è praticamente la parte bassa che ha sempre respinto i prezzi verso l'alto quindi in prima battuta su quest'area dovrebbe esserci sicuramente una reazione per operazioni un po più veloci si possono anche tentare i riassorbimenti in questo caso del minimo di settembre e del minimo di maggio perché anche qui abbiamo due minimi insomma che toccano la parte alta la fascia alta c'è da stare un po più attenti perché appunto in questo caso il prezzo potrebbe anche affondare quindi diciamo che bisogna avere un po più di accortezza per quanto riguarda lo stop in questo caso eventualmente si prende lo stop si porta a casa come si suol dire e si prova a rientrare su questa fascia di prezzo più bassa che risulta sicuramente più sicura non sarei per la mediazione del prezzo come dico spesso preferibile entrare in posizione con tutta la size avendo magari preso un primo piccolo stop quindi che dire adesso la candela di settembre ha venduto i minimi della candela di agosto di luglio di giugno quindi insomma c'è stata una uscita del prezzo da una delle due parti e la candela di ottobre sembra adesso all'interno della spike di settembre però direzionata verso il ribasso quindi se in questo caso i prezzi andassero a come dire se i prezzi andassero adesso a ritracciare ancora a seguito insomma degli indici generali mondiali delle news delle notizie che in questo momento non rendono positive insomma le sorti dell'economia in generale potrebbe anche ritracciare ancora un pochettino e quindi magari giusto appunto arrivare proprio su questa soglia che tanto ci interessa vediamo come si svilupperà appunto la candela di ottobre che ci darà sicuramente delle informazioni utili per decidere